Cari fratelli e sorelle, vorrei ora invitarvi a pregare insieme per le vittime delle manifestazioni di questi ultimi giorni nell'amato Niger. Sono state fatte brutalità con i cristiani, con i bambini, con le Chiese. Invochiamo dal Signore il dono della riconciliazione e della pace, perché mai il sentimento religioso diventi occasione di violenza, di soprafazione e di distruzione. Non si può fare la guerra in nome di Dio. Auspico che quanto prima si possa ristabilire un clima di rispetto reciproco e di pacifica convivenza per i beni di tutti.